La Lega Libertà dello SPI, il sindacato pensionati della CGL, aderisce volentieri nella collaborazione al progetto Storie in Libertà, sia perché come Lega, non esclusivamente, ma prevalentemente operiamo nel quartiere Libertà, ma soprattutto perché tra i fini statutari del sindacato pensionato della CGL, oltre la tutela collettiva e la tutela individuale dei pensionati e delle persone anziane, c'è anche la promozione sociale attraverso iniziative ludico-culturali per favorire nelle persone anziane l'invecchiamento attivo.